Bella affermazione della Pol Factory di Sciacca, associazione sportiva dilettantistica di Pol Dance di Melania Tarolli, alla gara regionale di specialità che si è svolta lo scorso fine settimana a Palermo. In gara 12 ragazze di diverse fasce d'età che hanno gareggiato nelle varie categorie. Terzo posto per Carlotta Bivona nella categoria Under 10, secondo posto per Nicole Puccio nella Under 18 emergenti, terzo posto per Sabrina Sabella nella categoria Under 30 novizi. La Pol Factory si è giudicata diversi podi e abbiamo raggiunto ottimi risultati. In gara anche l'istruttrice Melania Tarolli a capo della Pol Factory di Sciacca, per lei non solo la soddisfazione per i risultati ottenuti dalle sue allieve, ma anche la soddisfazione personale per essersi classificata al primo posto nella categoria Under 40. Sono al sesto mese di gravidanza e ho voluto partecipare a questa gara, dove ho voluto dimostrare alle persone che si può fare anche in diversi step di vita. Ho portato un tema abbastanza delicato. Da quanti anni lei si occupa di pole dance? Io iniziai pole dance nel 2015, vivevo a Tenerife e iniziai lì. Poi man mano iniziai a studiare e adesso ci ritroviamo nel 2023 con due sale, una a Sciacca e una a Menfi, dove ci appoggiamo anche all'Alteir. Insomma abbiamo iniziato questo bellissimo percorso tutti insieme. C'è interesse nei confronti di questa disciplina sportiva? Il territorio come ha risposto in questi anni, da quando avete lanciato questo sport? Anche lì a livello personale abbiamo avuto diverse vincite. Ovviamente la pole dance era classificata come qualcosa di sbagliato e offensivo, invece ad oggi possiamo dire che si stava fermando bene nel territorio perché comunque stiamo continuando ad aprire le sale di pole dance e la gente ha cambiato un attimino idea su questo sport. Ecco, c'erano dei pregiudizi che accompagnavano questo sport? Sicuramente associata alla lap dance, come tutti quanti immaginiamo. In realtà non è così perché adesso a livello nazionale, io sono anche giudice di gara, faccio parte di diverse associazioni, sportive molto importanti e adesso è una situazione diversa, la nostra sicuramente non è vista in malo modo come prima.